CAMERA E MOTHERFUCKINI SONO L'ho lasciato un po' andare, ho riproposto anche con AgroDrift. Che differenza c'è fra questi video e i video che faccio sempre? Questi video sono più spontanei, sono quasi delle reaction a freddo, ovviamente nel senso dopo aver visto il film, molto dopo aver visto il film, che mi sembrano più adatte a quello che ho da dire sul film e se ci fate caso di solito faccio questo tipo di video su film che non mi sono particolarmente piaciuti o che non mi hanno ispirato particolari considerazioni. Quindi con il cuore a pezzi vi dico che il film protagonista di questa pseudo reaction recensione è Maxine di Ty West, un film attesissimo non solo dal sottoscritto ma da tutti coloro che erano rimasti esaltati dal film Pearl, che si era posto al centro di una pseudo trilogia, il cui primo capitolo era X. Ora di X e Pearl l'ho già parlato in un video che vi metto qui, un video che approfondisce diverse tematiche legate alla rivoluzione sessuale negli Stati Uniti negli anni 70, alla crisi della religione cattolica nell'Occidente, sempre in quegli anni, al modo in cui un certo tipo di movimento femminista ha usato il proprio corpo, ha usato il sesso e la libertà sessuale per costruirsi un percorso di enorme contrasto con la società che lo circondava. Quindi questi due film, cioè X e Pearl, in un certo senso mi hanno scatenato dei ragionamenti che questo film Maxine in realtà non è riuscito a fare. Innanzitutto mi sento di fare una sorta di mea culpa, di mea culpa collettivo, nel senso questa trilogia probabilmente l'abbiamo creata noi spettatori, cioè non era nella testa di nessuno, non era nella testa di Ty West, non era nella testa di Mia Gott e probabilmente non era nella testa nemmeno di A24 che ha prodotto il film e anche qui su A24 ho già detto tante volte che è una sorta di scudo su ogni cosa, anche su ogni considerazione rispetto allo specifico film. Di solito se un film è A24 deve essere per forza un capolavoro, ma non è sempre così. Quindi dicevo, mea culpa per aver fatto parte di quella fetta di pubblico che questa trilogia se l'è inventata dal niente, perché effettivamente a rifletterci adesso dopo aver visto Maxine, X è un film abbastanza normale, con delle buone invenzioni e con un buon sottotesto, appunto la rivoluzione sessuale, la libertà sessuale, il porno che diventa un'industria cinematografica. Il grande film della situazione qui è Pearl. Pearl è un film travestito da horror, ma che in realtà è un film estremamente psicologico. È un film che spinge tantissimo su un argomento che ritengo estremamente attuale oggi, cioè qual è il tuo limite per raggiungere il tuo obiettivo se il tuo obiettivo è la visibilità, se il tuo obiettivo è la notorietà. Quanto in là sei capace di spingerti per raggiungere quello specifico obiettivo. Ovviamente in Pearl, che è ambientato negli anni 50, la visibilità è data dagli spettacoli nei teatri, nel, chiamiamolo, varietà, e poi solo dopo, ma era veramente l'obiettivo massimo, il cinema. Oggi abbiamo i social, abbiamo Instagram, abbiamo TikTok, volendo, abbiamo OnlyFans. Però davvero Pearl è una fantastica disamina su quanto un personaggio comunque emotivamente fragile e instabile, perché Pearl è un personaggio emotivamente fragile e instabile, quante regole sei disposto a infrangere per raggiungere il tuo obiettivo. Ma arriviamo a Maxine, arriviamo a Maxine e la primissima sensazione, dopo pochi minuti che avevo iniziato la visione del film, era che appunto in testa avevo una trilogia del tutto inventata. Anche perché parliamoci chiaro, X è un film a sé stante, Pearl, a riguardarlo oggi, è evidentemente una grandissima intuizione. Forse più di Mia Gott che non di Ty West. Cioè andiamo a scavare a fondo in questo personaggio che è rimasto ingabbiato nelle regole bigotte della società in cui viveva, appunto la società degli anni 50, nonostante questo personaggio fosse una belva feroce, veramente la più feroce delle belve che io abbia mai visto al cinema. Il problema di Maxine è che il diretto sequel di X, quindi tutta quella forza narrativa e anche quella spettacolarità visiva, perché Pearl aveva delle invenzioni visive notevoli, la salta a più e pari. Cioè in questo film tutto l'universo Pearl non esiste. Ed essendo la continuazione diretta di X, ha tutti i limiti di X. Perché X era un dichiarato omaggio a un certo tipo di horror anni 70, proveniente dagli slasher movie o dai film dove appunto c'è il capanno nella fattoria con i due maniaci che uccidono i protagonisti. C'era l'ironica metafora del sesso come anticamera di una morte violenta, che l'horror americano di quegli anni ha sempre utilizzato per sbeffeggiare la cultura bigotta americana di quel periodo. E poi in X c'era appunto questo personaggio di Pearl, che invidiosa della bellezza, della freschezza, della giovinezza di Maxine e della sua libertà sessuale, a un certo punto scatena appunto la belva che c'è in sé e fondamentalmente inizia il massacro. Stilisticamente ma anche narrativamente X è però un film normale e purtroppo lo è anche Maxine. Normale però in un senso più negativo rispetto a X, perché la normalità di X giustificava anche la semplicità della storia di X. Maxine invece è pieno di spunti narrativi, di spunti di sceneggiatura, che però vengono lasciati lì, vengono completamente lasciati lì. Sicuramente la cosa più negativa di questo film, la cosa che mi è piaciuta meno di Maxine, è la sceneggiatura. Sembra non esserci. Sembra che sia stata fatta una lista di cose fighe da mettere in sceneggiatura, ma poi è rimasta una lista. Infatti il film semplicemente segue questa lista di cose fighe, ma non le inserisce in un contesto narrativo solido, non costruisce una storia solida. La prima scena del film è molto bella ed è forse l'unica cosa veramente indimenticabile di Maxine. Quindi vediamo Maxine che va a fare il provino per un film horror. Lei è ancora un'attrice porno, vive a Los Angeles, siamo nel 1985, e vuole fare il salto, vuole fare il salto dal cinema porno al cinema vero. Fa il provino per il sequel di un horror intitolato The Puritan, un horror che ha avuto un enorme successo e questo suo secondo capitolo sembra essere destinato a entrare nella storia del cinema. E durante il provino le viene chiesto, prima di fare un monologo, e Mia Gott fa un bellissimo monologo, legato al finale di Pearl, e subito dopo le viene chiesto di far vedere le tette. Questa scena fondamentalmente cancella la linea di confine tra il cinema porno che viene considerato il cinema di serie B e il cinema vero che viene considerato di serie A. È tutto un grande mischione. Però tutto quello che succede dopo questa scena, come ho detto prima, è semplicemente una lista di idee che portano a un epilogo talmente telefonato. Cioè, non vi spoilero il finale, ma io l'avevo capito dopo tre secondi, dove stava andando a parare il tutto. Ma giustamente vi starete chiedendo cosa succede in questo film. Fondamentalmente succede che Maxine ottiene la parte in questo horror, ma viene, tra virgolette, perseguitata da diverse situazioni. La prima è un investigatore privato che le sta, le calcagna, e che le dice il mio cliente è una persona estremamente potente, le dà un indirizzo in mano, le dice devi venire a questo indirizzo, e tutte le verità ti verranno svelate. In più viene tormentata dal suo passato, viene perseguitata da una serie di indizi che le fanno capire che probabilmente il cliente di questo investigatore privato, un Kevin Bacon fenomenale, sa di tutti gli eventi accaduti in X, quindi che lei ha commesso un amicidio e che è stata comunque testimone di un massacro. In più Maxine viene segretamente seguita da un uomo misterioso, vestito di nero con dei guanti di pelle nera, super omaggio a Dario Argento, che si rivela essere un uomo estremamente pericoloso perché lo vediamo commettere l'omicidio di un amico di Maxine. In più vengono barbaramente uccise anche due amiche colleghe di Maxine, e praticamente sembra che le persone attorno a Maxine siano destinate a morire, semplicemente per il fatto di conoscerla. Ovviamente su queste morte indagano due poliziotti e questa è un'altra parte del film che secondo me idealmente voleva sembrare in un modo e invece ha ottenuto un altro risultato, almeno nei miei confronti. Questi due poliziotti sono delle macchiette, sono veramente l'archetipo del poliziotto pseudo-scemo dei film poliziotteschi di quegli anni, cioè siamo nella metà degli anni Ottanta. Sembrano veramente usciti da Beverly Hills Copp, da quanto seguono delle regole di dialogo e di azione estremamente legate a quel periodo. Sembrano che stiano recitando nella realtà, da quanto sono goffi e buffi, anche in situazioni in cui dovrebbero essere minacciosi, anche in scene d'azione o in scene in cui cadono giù da una collina, sono estremamente buffi. E ci ho visto l'intenzione di Ty West di esagerare su certi toni, il problema è che i toni sono esagerati solo nelle scene di questi poliziotti. Tutto il resto del film vuole essere preso estremamente sul serio, quindi queste scene così buffe dei poliziotti mi sono sembrate estremamente fuori contesto. Comunque questi poliziotti indagano su queste morti, entrano in contatto con Maxine, e questo serve fondamentalmente a lasciare Maxine all'interno di questo frullatore di situazioni, cioè l'uomo misterioso con i guanti neri, che la segue, il detective privato, questi due poliziotti. Ma il grandissimo difetto di questo film, una cosa che non perdono a questo film, è che in questo frullatore Maxine rimane ferma immobile al centro, cioè Maxine in questo film non fa niente, non ha nessuna azione diretta, o meglio ne ha una sola, ma è talmente senza senso e fuori contesto, che una volta fatta e finita ti gratti la testa perplesso e dici boh, vabbè, è andata così. Quindi grande problema di sceneggiatura è che ci sono delle idee, ma non vengono inserite in un contesto narrativo solido, la storia è estremamente banale, il finale è estremamente prevedibile e telefonato, Maxine è un personaggio passivo, passivissimo, davvero non fa quasi nulla in questo film, e cosa che ho detestato, ha numerosi, troppi flashback riguardo a X, riguardo al film X, e tutti i flashback sono legati alla figura di Pearl, quasi come se si sentisse in colpa di averla uccisa alla fine di quel film, ed è una cosa che mi sento di dire non appartiene a questo tipo di personaggio, perché Maxine ha una ferocia da animale della giungla che vuole prevalere sugli altri, quindi mi chiedo perché insinuarle nella testa questo fantasma, questo senso di colpa, che cosa la spaventa del passato, è un personaggio da cui non ti aspetti una paura del passato, ma ti aspetti solo il sogno di un grande futuro e la fame di azzannare il presente con violenza, tra l'altro. Il finale del film è ridicolo, assolutamente ridicolo, come ho detto più volte, telefonatissimo, non vi faccio uno spoiler, ma quasi, l'inizio del film è praticamente la fine, si autospoilera, il film inizia con uno spoiler della fine, pazzesco. Non so se è voluto o se è stato un errore di ingenuità, ma errori di ingenuità a questo livello, secondo me, non sono tollerati. Ho nominato Kevin Bacon, Kevin Bacon porta in scena un personaggio fantastico, veramente il cliché del detective privato devastato dalla vita, magro, con i denti marci. Il problema di questo personaggio e del suo cliente, che poi scopriamo essere il Mr. X con i guanti neri, è che fanno la stessa cosa. Nel film li vediamo compiere la stessa azione, cioè stare addosso a Maxine. E mi chiedo, perché l'uomo misterioso con i guanti neri ha bisogno di un detective privato per fare una cosa che sta già facendo da solo? Come ho detto, più volte la sceneggiatura di questo film è un po' ballerina. E altra cosa che purtroppo non mi è piaciuta di questo film è che Maxine è più preoccupato di dare autorevolezza e sostanza al periodo storico in cui è ambientato, cioè il 1985, che non a dare autorevolezza autorevolezza e sostanza a se stesso, a se stesso come film. Ogni scena è un omaggio alla Los Angeles di quegli anni, ma non da un punto di vista di marciume, non da un punto di vista del dark che c'era in quella Hollywood e di dark in quella Hollywood ce n'era veramente tanto, tra droga, prostituzione, serial killer, c'era di tutto, ma solo l'immagine pop, la cartolina pop, cioè per dirne una, c'è una scena in cui lei passa davanti ad un dojo, ad una palestra di karate dove si stanno allenando i karateka ed è un ovvio omaggio a Karate Kid che è uscito nell'84. In più, c'è una scena in cui lei scappa all'interno degli studios della Universal, quindi attraversa, se non ricordo male, il set di Ritorno al Futuro, più volte viene inquadrata alla casa di Psycho, ok, abbiamo capito che si è ambientato nel 1985, ma questo è esattamente che cosa vuol dire per il tuo film, cosa vuol dire per il film Maxine essere ambientato nell'85. In X il periodo storico faceva parte del film, la rivoluzione sessuale, il porno come industria cinematografica, eccetera, eccetera. In Pearl il periodo storico faceva parte del film, perché Pearl reagisce con violenza alla soppressione che subisce dalla mentalità anni 50 in cui vive. In Maxine il periodo storico non ha nessuna influenza sul film e questa cosa mi fa impazzire, perché gli anni 80 negli Stati Uniti è forse il decennio più violento e oscuro che sia mai stato concepito. È il decennio dei serial killer più prolifici della storia. Non c'era il test del DNA, potevi letteralmente spargere il tuo sperma su 200 cadaveri e nessuno ti avrebbe mai trovato. Non esistevano tutte le telecamere che ci sono oggi, non esistevano i telefoni che ci potevano tracciare. In più le figlie dell'85 erano figlie di madri che si erano liberate mentalmente e sessualmente negli anni 70. Quindi se una sedicenne figlia di queste donne che si sono liberate negli anni 70 genitori che si sono liberate negli anni 70 spariva all'improvviso di casa nessuno si preoccupava di andarla a cercare perché la mentalità era avrà trovato l'amore della sua vita o sarà entrata in una comunità adesso è sicuramente più felice di prima. Quindi tutta una serie di predatori tutta una serie di serial killer hanno fatto i porci comodi loro perché è stato come chiudere un leone in un pollaio purtroppo tutto questo in Maxine non c'è questa cosa mi dispiace tantissimo perché io mi aspettavo da questo film esattamente la sfida tra il personaggio e il suo periodo storico nel senso noi alla fine di X abbiamo visto che Maxine è pronta a tutto è una bestia feroce ed è pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo ok mettiamola in un periodo storico più cattivo di lei e vediamo che cosa riesce a fare purtroppo questa cosa nel film non succede come ho già detto Maxine è un personaggio passivo non fa praticamente nulla anche nel finale fondamentalmente approfitta di una situazione favorevole ma non è protagonista neanche del finale concludo dicendo che effettivamente forse questa trilogia ce la siamo inventata noi probabilmente non aveva senso di esistere è stato creato un hype su una cosa che era stata resa speciale da un film cioè Pearl che però è talmente staccato da X e Maxine che definire tutto questo una trilogia mi sembra fuori luogo la regina di Ty West è una regina bella pulita ci sa fare però è prigioniero dell'etichetta horror nel senso probabilmente lui non voleva girare niente di horror in questo film voleva fare più un noir al neon al neon anni 80 però è stato obbligato a farlo quindi ci sono tre scene leggermente splatter tre quattro scene leggermente splatter che però se le togli dal film il film non cambia anzi forse leggermente migliora se siete in attesa del terzo diamante della vostra corona della trilogia di Ty West e Mia Gott secondo me rimarrete molto delusi è un film sbagliato scritto molto male con delle idee che non vengono inserite in un contesto narrativo un finale ridicolo troppo anticipato sono rimasto deluso ma forse deluso più da me stesso che non dal film quando ho finito di guardare Maxime mi sono chiesto perché mi aspettavo grandi cose da questo film perché era Berlo Pearl mettiamoci l'anima in pace Pearl è un film a sé è un qualcosa di fantastico che è successo perché evidentemente tutte le anime creative coinvolte in quel film erano al massimo della loro potenza creativa ed espressiva questo non vuol dire che Ty West sia un regista mediocre questo non vuol dire che Mia Gott sia un attrice mediocre Ty West è un bravissimo regista ma in questo film dimostra di essere un pessimo sceneggiatore Mia Gott è bravissima ma in questo film non le danno niente da fare quindi dalla versione di Barley è tutto buona visione se avete voglia di vedere Maxine buona bevuta dopo il film andate in un bel pub a bere della buona birra artigianale non bevete birracce vi ricordo di iscrivervi al canale a voi non costa nulla a me cambia tutto e soprattutto non fermatevi alla prima a voi non costa nulla